Come forse avrete letto sui nostri quotidiani locali, si prospettano cambiamenti sul fronte degli autovelox collocati in alcuni comuni della nostra provincia. Stiamo parlando in particolare di quelli di Bressana Bottarone e Belgioioso. Del rilevatore di Belgioioso abbiamo già parlato a inizio settimana e molti di voi hanno manifestato opinioni in merito. Tanti chiedevano di rimuoverlo, altri di collocarlo nel centro abitato, magari prima del castello. In generale la maggior parte delle persone che hanno commentato ritenevano esagerato il limite dei 50 su un tratto dove non ci sono case. Qualche giorno fa la provincia pavese ha riportato alcune novità interessanti sul fronte velox. A Belgioioso, per esempio, il dispositivo in uscita dal paese in direzione pavia dovrebbe essere rimosso. Resterà invariato invece il limite per i controlli nella direzione opposta. Inoltre sembra che verranno aggiunte delle colonnine arancioni per controlli a sorpresa in alcune zone del paese come per esempio via 20 settembre, la zona del mercato e quella della scuola. Quadro diverso in quel di Bressana, dove uno dei due velox collocati tra la provinciale 35 e la strada per argine verso Casteggio sarà sostituito da un rosso stop. Cosa pensate di queste novità? Meglio o peggio di prima? Dite la vostra e se vi interessa l'argomento lasciate un mi piace sulla pagina e condividete.